Io sono Leonardo da Vinci, l'architetto. Sei tu conscio del fatto che ciò che ti circonda non è reale. Siamo un mero simulacro illusorio, prodotto in una dimensione ben più vasta e a noi aliena. Ogni azione da te finora è spletata e la risultanza, calcolata e progettata, da loschi individui connessi ad un computiere. Il tuo unico scopo è intrattenere il volgo del mondo esterno tramite un passatempo malsano, conosciuto come videogioco. Va, mi ergo i tuoi sforzi. È impossibile sfuggire al proprio fato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.